Un momento solenne per il corpo della Guardia di Finanza ed anche uno straordinario momento di riflessione l'inaugurazione e l'intitolazione al finanziere Alfredo Tramacere della nuova caserma di Lecce. Una sede, testimonianza della bellezza architettonica della città, l'immobile in precedenza sede del convento di San Francesco e in seguito della casa circondariale di Lecce è stato oggetto di laboriosi lavori di ristrutturazione e restauro conservativo ed in queste ore è stato restituito alla città. Per il corpo un luogo nuovo in cui operare a tutela della giustizia, dell'equità sociale ed in particolare della legalità economico-finanziaria. La toccante cerimonia ha avuto inizio con la resa degli onori al comandante interregionale dell'Italia meridionale della Guardia di Finanza, generale di Corpo d'Armata Vito Giampaolo Augelli, accompagnato dal comandante regionale di Puglia, generale di divisione Fabrizio Toscano. Hanno partecipato numerose autorità locali e provinciali, civili, militari e religiose, insieme ai familiari del decorato arrivati da varie parti d'Italia. In apertura i saluti del comandante provinciale di Lecce della Guardia di Finanza, colonnello Stefano Ciotti. Poi il taglio del nastro del nuovo presidio con la benedizione dell'arcivescovo Monsignor Michele Seccia, intitolato alla memoria del finanziere Alfredo Tramacere, nato all'Equile nel 1913, medaglia di bronzo alla memoria che perse la vita a Sanafe in Eritrea il 5 marzo del 1949, mentre combatteva nel conflitto mondiale, con questa motivazione incisa sulla targa alla memoria, scoperta dalla nipote Fernanda Maria Tramacere, accompagnata dai fratelli e dai parenti tutti. Mentre assieme ad altri finanzieri usciva dalla caserma, veniva improvvisamente aggredito nell'oscurità dai banditi con il lancio di bombe a mano e colpi di moschetto. affrontava coraggiosamente uno dei banditi e cercava di disarmarlo, ma, assalito alle spalle da un altro che lo feriva con una scimitarra, si accasciava e moriva al suolo. La resistenza permetterà agli altri finanzieri di mettersi in salvo. Un modo questo per recuperarne il ricordo e la condotta personale, perché sia da esempio per le nuove generazioni. L'evento è proseguito con la suggestiva esibizione della fanfara della legione allievi della Guardia di Finanza di Bari alla presenza, tra gli altri, dell'Ugo Ladoro Albano Carrisi.